Felicissimi di avere qui a Radio Bruno Fiorella Mannoia. Buongiorno a tutti, grazie, sono felice anch'io di essere con voi. Complimenti, è una canzone stupenda e non c'è niente da fare. Ogni volta a Sanremo domini quel palco. Sono tutti catalizzati nel guardarti, nell'ascoltare la canzone, quello che ci proponi e ci ha emozionato veramente tanto. Mi fa molto piacere. Poi la reazione del pubblico davanti ad una canzone sconosciuta, perché in realtà non l'avevano mai sentita, è già quello, per me io ho già vinto. Ecco, se ha fatto, se ha suscitato questa reazione al primo ascolto, allora sono felice, sono contenta. Dato che la canzone parla delle donne, un tema centrale, e sei scesa con i piedi scalzi, era proprio per la madre terra, per stare a contatto con il... Guarda, ti devo dire la verità, quell'abito si prestava a non indossare scarpe. Io poi sono abituata a stare sui palchi a piedi scalzi, perché anche quando durante i concerti entro con i tacchi, a metà concerto dico proprio alla gente, scusate la mia porca figura l'ho fatta, i tacchi piacciono tanto agli uomini, ma perché non ve li mettete voi? Perché sono scomodissimi, e me le tolgo. Per cui sono abituata a calcare i palchi scalza. E poi quella canzone, vestita come una sposa gitana, si prestava ad essere cantata senza scarpe. Non ci vedevo nessuna scarpa lì sotto. Va bene. E invece la canzone come è nata? Nel senso che l'hai spiegato diverse volte, però vorrei che proprio lo ripetessi per gli amici di Radio Bruno. Guarda, è nata durante la visione di una serie che si intitola L'urlo delle farfalle. È una serie dedicata alle sorelle Mirabal. Le sorelle Mirabal erano tre sorelle domenicane, attiviste politiche contro l'allora dittatura della Repubblica Domenicana di Trujillo. Furono trucidate, ammazzate il 25 di novembre 1960. Forse pochi sanno, non tutti sanno, che quella data del 25 di novembre, come giornata mondiale contro la violenza sulle donne, è proprio un omaggio alle sorelle Mirabal. Per cui da questa visione, mio marito ha preso carte e penne e ha cominciato a scrivere. Ha detto che stai scrivendo. Dice, aspetta, mi vengono delle idee. E in queste idee che poi abbiamo visto c'erano tutte queste frasi di donne che naturalmente poi abbiamo fatto a più mani. Abbiamo coinvolto Cheope e Federica Abate, che sono collaboratori miei da tanto tempo. sono gli autori di Combattente, di Nessuna Conseguenza. Per cui abbiamo chiesto a loro di trasformare queste idee in musica e in una canzone. Ed è una canzone, è un inno, è nata da quell'idea lì, è un inno ed è un manifesto femminile sull'orgoglio di essere donna in tutte le nostre sfaccettature. Per quello che siamo state anche nella storia, a parte con la strega in cima al rogo, durante l'inquisizione bruciavano le donne accusate di stregoneria, ma in realtà bruciavano le ribelli, quelle che non si adeguavano. Per cui da lì, poi passando dalla farfalla che imbraccia il fucile, ecco, lì c'è una citazione alle sorelle Mirabal, ma non solo, una citazione alle donne kurde che combattono, la citazione alle nostre donne partigiane. C'è tutta una, appunto, una dedica a tutte le donne che hanno combattuto per la libertà. E poi si va avanti, fino a descriverci anche testarde, bugiarde, volubili. C'è tutta una sfaccettatura di noi donne a conclusione di Sono libera e orgogliosa, canto. Ecco, e lì mi sento proprio... L'ultima frase è la mia, proprio. La faccio con tanto orgoglio e tanta, come dire, felicità. E si è visto? Si è visto e si è sentito. A proposito invece di citazioni, anche una, nessuna, centomila, quindi questa canzone immagino che la riproporrai anche in questo progetto incredibile che ti vede tra le protagoniste. Dunque, è una citazione voluta perché io sono, mi freggio di essere presidente onoraria della nostra fondazione, una, nessuna, centomila, nata appunto dopo il concerto di Campovolo. Abbiamo pensato con le mie amiche, colleghe, Giulia Minoli, Celeste Costantino e Lella Palladino che non poteva finire tutto lì, che dovevamo fare di più. Allora abbiamo costituito questa fondazione che si occupa di raccogliere fondi per i centri antiviolenza. Infatti il 4 e il 5 di maggio noi saremo all'Arena di Verona con due date già esaurite per raccogliere fondi appunto per i centri antiviolenza. Lo faremo tutti gli anni, e sensibilizzare le donne, gli uomini che come vedi insomma bisogna ancora lavorare tanto perché la strada è ancora lunga, i fatti di cronaca purtroppo ne danno conferma. Voltiamo un po' pagina, passiamo alla serata delle cover. Beh vabbè ci hai stupito. Noi vogliamo, allora tutti mi fermano per strada chiedendo ma poi Fiorella ballerà con Francesco Gabbani perché appunto l'ospiterai con Occidentalis Karma che sia benedetta, quel famoso Sanremo 2017 che ci è piaciuto in maniera incredibile. Ci divertiremo. Quando sarà la serata dei duetti lì proprio ci divertiamo perché sfatiamo questa rivalità con cui la gente ci vede perché in realtà sì, insomma, eravamo tutte e due sul podio non ti nascondo che un po' io ci avevo un po' sperato perché poi non vado mai a Sanremo con quest'idea però quando ti trovi lì per cui ci siamo un po' poi quel gesto che ha fatto è stato proprio è un gesto meraviglioso si è inginocchiato ma non siamo mai stati rivali per cui però la gente giustamente ci ha visto così in competizione. La serata dei duetti sfateremo questa cosa e vedrete che ci divertiremo tantissimo. Ma si è visto che ti sei divertita anche durante le prove c'era questa scena di te al bar dell'Ariston che offrivi il caffè a tutti gli orchestrali ma il caffè è un tema centrale per i tuoi Sanremo. Beh insomma ormai è un rito appena arrivo all'Ariston vado al bar perché ormai sono diventati tutti amici oggi abbiamo pure cantato insieme però è successa una cosa stupida durante le prove io non mi ricordavo di aver tolto gli air monitor e abbiamo cominciato a cantare e non mi sentivo ho detto ma io sento solo da fuori sono venuti tutti a guardare poi mi sono accorta che avevo gli auricolari a pezzoloni qua per cui ho dovuto fermare l'orchestra e ho detto scusate colpa mia pago il caffè a tutti e allora sono andata al bar e ho offerto il caffè a tutta l'orchestra bravissima mi sembra che tu ti stia divertendo in questo Sanremo è possibile viverlo così sì mi sto divertendo l'attenzione c'è sempre perché quella è una prima Sanremo dico sempre che è la madre di tutte le prime perché le prime sono sempre emozionanti di qualsiasi cosa di una trasmissione televisiva di un concerto però lì è tutto amplificato perché insomma sai di avere milioni 18 16 non lo so una quantità infinita di gente che ti guarda non solo dall'Italia e non solo in Italia e stai per cantare una canzone che nessuno conosce per cui un po' di agitazione dai te la dà però però anche lo sto vivendo anche con una volta poi entrata sul palco e dover cantare questa canzone mi diverte cantarla è un divertimento per cui sono felice ecco poi c'è tutto questo Fantasarremo in mezzo infatti che te lo dico a fare ma ce l'hai l'abito bianco hai dato quindi i punti ci sono no mi sa che l'abito bianco non c'è stavano i punti sai ti do questa notizia mi sa che è tutto nero dai punti hai baciato se li prenderò qualche puntarello mi sa che me lo porto a casa no a parte tutto io non ne sapevo nulla proprio ero completamente ho cominciato a vedere gente ti ho messo in squadra ma a che fare io non sapevo niente di questo Fantasarremo per cui ho dovuto non sono dovuta farmelo spiegare i baudi i pipi baudi quello compra vende non ci ho capito niente però io gli ho detto guarda favo una cosa ditemi quello che devo fare e io lo faccio se posso se non posso no ci sono cose che non posso fare la scapezzolata anche no ecco la spaccata anche no per cui ci sono sdraiata per terra anche no per cui tutto quello che posso fare per divertirmi e non deludere quelli che mi hanno messo in squadra e addirittura qualcuno mi ha fatto anche capitano sono imprigionata ormai non posso fare lo devo fare per cui adesso faremo tutto quello che c'è da fare nel limite del possibile io ringrazio veramente di questa generosità entusiasmo divertimento energia veramente grazie mille Fiora grazie a tutti voi agli amici di Radio Bruno un bacio da me ciao